Non solo terra e roccia, ma anche amianto e rifiuti di scarto speciali, questo l'esito della perizia sul terreno franato eseguita dopo il crollo dello scorso febbraio della piazzola lungo la E45 nei pressi di Pieve Santo Stefano. L'esame tecnico era stato disposto dal GIP del Tribunale di Arezzo con incidente probatorio nell'ambito dell'inchiesta aperta dal procuratore capo Roberto Rossi. L'esame è stato effettuato sui materiali di scarto che erano stati accumulati e stoccati in un deposito di Sansepolcro sequestrato nello scorso marzo dai carabinieri forestali. Dunque assieme alla terra e alla roccia come dovrebbe essere sarebbero presenti anche dei materiali dei conglomerati che possono essere qualificati sotto il termine di rifiuti speciali dal momento che le analisi accurate hanno rilevato la presenza di amianto. I risultati dell'esame tecnico potrebbero così confermare i sospetti della procura di Arezzo che avevano portato al sequestro della piazzola. Al momento il procuratore capo Roberto Rossi sta lavorando a due filoni di inchiesta sulla E45 di cui uno condiviso con la procura di Forlì che vanno dall'attentato alla sicurezza dei trasporti al disastro colposo. Adesso l'esito della perizia potrebbe dare una svolta alle indagini.